L'Ordine degli Avvocati di Bari ha inteso rendere omaggio ad un illustre avvocato giuslavorista, l'avvocato Niki Vuciaccia, intitolandogli la Commissione Diritto del Lavoro e Previdenza Sociale, anche per sottolineare l'importanza che il diritto del lavoro e la previdenza sociale hanno in una società come la nostra in continua evoluzione. L'idea di intitolare la Commissione a Niki è venuta nel corso della cerimonia per il centenario dell'Ordine, tenutasi il dicembre scorso. In quell'occasione abbiamo trasmesso un filmato con i protagonisti che hanno nutrito l'Ordine, che hanno dedicato tempo, passione, competenza e all'immagine di Niki si è elevato un applauso sentito, partecipato da parte di tutti quanti i colleghi, a dimostrazione, se ve ne fosse bisogno, di quanto Niki sia ancora presente nel cuore di tutti noi. E direi che l'illustrazione più concreta per rendere omaggio all'avvocato Niki sia nel titolo che ho scelto per l'iniziativa odierna, perché la forza delle idee a tutela dei più deboli è da sempre la cifra peculiare che ha caratterizzato la vita professionale e privata dell'avvocato Niki Mucciazza.